Un problema quello che riguarda la parte vecchia del cimitero comunale di Modica che si protrae da otto anni. Loculi inaccessibili con circa 10.000 cittadini che chiedono di poter visitare i propri cari defunti. Come già segnalato e denunciato da molti, infatti, vi sono ad oggi migliaia di tombe non raggiungibili in quanto transennate per pericolo di crollo. Clamoroso caso le strutture della confraternita di Vittorio, i cui 4.500 loculi da quasi otto anni e sino ad oggi sono inagibili ai visitatori. Recentemente l'argomento è stato presentato tramite apposito ordine del giorno in consiglio comunale, ma la maggioranza, addetta del Movimento 5 Stelle e Modica 2038 PD, ha ritenuto opportuno lavarsene le mani. In effetti si tratta pur sempre di una confraternita privata senza un punto di riferimento. Un problema non di facile soluzione, ma che si protrae ormai da troppo tempo. Lo scorso novembre lo stesso consigliere comunale della Lega, Momo Carpentieri, si recò in sopralluogo nella parte vecchia del cimitero chiedendo interventi urgenti e un consiglio comunale aperto sull'argomento. Quello che a oggi si registra è un costante rimbalzo di responsabilità tra l'amministrazione e la confraternita di Vittorio. Intanto tutto resta così com'è con l'opposizione che incalza, bacchettando anche la maggioranza, accusata di non essersi interessata al problema, trincerandosi dietro il fatto che l'amministrazione si starebbe già impegnando. Peccato, affermano Movimento 5 Stelle, Modica 2038 e PD, che siano trascorsi appena otto anni senza riuscire a individuare una soluzione. Chi ci rimette ricorda l'opposizione e innanzitutto la città e poi anche i consiglieri stessi, perdendo un'altra occasione per apportare il proprio contributo alla risoluzione dei problemi dei cittadini nell'interesse generale. Faremo tutto quanto in nostro potere, concludono i firmatari della nota, affinché anche la parte del cimitero monumentale della città e in particolare le confraternite cimiteriali siano oggetto di attenzione e cura e affinché siano date adeguate e concrete risposte a chi da anni non ha la possibilità di accedere alle sepolture delle persone a lui care. Nello stesso tempo vigileremo affinché gli impegni dichiarati pubblicamente dal sindaco nell'ultimo consiglio comunale di ricercare soluzioni al grave problema siano rispettati e anche le parole si tramutino in fatti concreti.